Pierluigi Ferraro, assessore all'ambiente del Comune di Montelabate, per parlare di un tema che è uscito negli ultimi giorni, è stata approvata la modifica per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti domestici per i residenti del Comune di Montelabate, ci può spiegare queste novità? Sì, va fatto un escursus. Nel 2015 nel piano regionale rifiuti, quindi della regione Marche, si parla per la prima volta di tariffa puntuale. Cosa si intende per tariffa puntuale? Che praticamente da quando verrà attivato ogni cittadino pagherà i rifiuti effettivamente per quello che produce e non più sui metri quadrati della casa. Va da sé che la bolletta Tari è divisa in due parti ogni anno quando noi la paghiamo. Una parte sono i costi fissi e una parte sono i costi variabili. La parte fissa sarà sempre quella. La tariffa puntuale andrà a incidere sulla parte variabile e lì un bravo cittadino, un virtuoso cittadino che produce meno rifiuti riuscirà a risparmiare rispetto ad esso anche un 20-25%. Per applicare la tariffa puntuale bisogna cambiare il sistema di raccolta. I sistemi di raccolta, e infatti questo è stato messo anche nel piano d'ambito, sono di due tipi, quelli per cui si può applicare la tariffa puntuale. Il primo è il porta spinto di tutte le frazioni merceologiche, il che significa che dobbiamo tenere in casa tanti bidoncini e aspettare che una volta, due volte alla settimana, passa l'operatore a ritirarceli. L'altro sistema invece è quello che è uscito ultimamente perché la tecnologia è sempre migliore, è quello dei cassonetti informatizzati, che non sono altro che i cassonetti come questi attuali, quelli che abbiamo e quelli che stiamo utilizzando, con l'unica differenza che anziché avere il libero accesso c'è uno sportellino che si apre e si chiude in base alla scheda che uno mette quando va a conferire il rifiuto. Registra che l'utenza con quel numero quel giorno ha conferito un sacchetto di carta oppure un sacchetto all'interno del vetro. Qual è il numero più o meno di cassonetti che verranno distribuiti nel comune di Montelabate? Qual è l'investimento? E soprattutto quali saranno le tempistiche per far sì che i cittadini possano soffrire di questo servizio? Se non ricordo male siamo sui 400 e qualcosa cassonetti per un totale di 700 mila euro che, ripeto, non andranno nelle bollette tari. Questi soldi non li pagherà l'amministrazione comunale, non li pagherà il gestore, ma sono finanziati direttamente dallo Stato e quindi saranno esclusivamente tutti i soldi che ci daranno lo Stato se chiaramente presentiamo un buon progetto. Per quanto riguarda il cronoprogramma, Marche Multiservizi ci ha dato sapere che il 2022 verrà utilizzato appunto per recepire tutte le risposte dei comuni, per confrontarsi col Ministero della Transizione Ecologica. Marche Multiservizi che deve cambiare questo sistema di raccolta e mettere i cassonetti informatizzati, dovrà mettere a bando i cassonetti informatizzati perché lo fanno varie aziende. Questo sarà nel 2023 quindi e penso che da quello che è dato sapere nel primo semestre del 2024 cominceranno a mettere i cassonetti lungo le strade.